So che molti di voi investono o magari vogliono investire in ETF E in effetti è un buon metodo, soprattutto con i mercati azionari ai massimi Dove appunto trovare singole azioni sottovalutate diventa ogni giorno più difficile Ma la domanda sorge spontanea Quali ETF comprare? Non sono infatti certo qua a dirvi di comprare un ETF sull'S&P 500, sulle principali borse Perché appunto queste sono ai massimi e io personalmente non mi aspetto rendimenti a doppia cifra per l'anno che verrà Però ci sono dei settori interessanti in cui possiamo investire tramite ETF Settori che secondo me per i prossimi anni potrebbero rivelarsi opportunità vincenti e in cui sto seriamente pensando di investire Per oggi quindi ho individuato 5 ETF di cui voglio parlare, ma prima sigla Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e oggi parliamo di ETF Se c'è una cosa che vi ho sempre detto quando si parla di ETF è che prima ancora di orientarci al singolo prodotto Quindi l'ETF in particolare che ci interessa, dobbiamo avere un'idea chiara di quello che ci interessa Ci sono settori particolari in cui vogliamo investire? Se sì, andiamo a cercare ETF che possano fare al caso nostro E non viceversa, non guardiamo prima che ETF ci sono e poi ci chiediamo Ok, mi può interessare? Perché sennò finiamo per investire in cose che non ci interessano davvero Un'altra cosa prima di iniziare e prima di parlarvi appunto degli ETF di oggi È che gli ETF settoriali, quindi quelli che vanno a investire in aziende di un settore specifico, un'area specifica Non sono adatti a un piano d'accumulo, almeno secondo me Infatti mentre possiamo fare dei ragionamenti più di ampio respiro Se si parla dell'economia di un singolo paese o addirittura di quella mondiale Beh, se si tratta di singoli settori, magari molto dipendenti anche dall'avanzamento tecnologico Beh, far ragionamenti a vent'anni diventa un po' complicato Se vogliamo investire in uno di questi ETF infatti bisogna essere pronti a controllarne periodicamente l'andamento E non trattarli come un ETF che si acquista in modo puramente passivo Ultima e simile cosa, poi possiamo partire Ovviamente non sono consigli finanziari, non sono qua a dirvi di comprare questi ETF Anche perché appunto io stesso sto valutando di comprarli Non ho ancora fatto alcun acquisto, almeno mentre sto registrando Quindi non andate ciecamente a comprare tutta sta roba Detto ciò, possiamo iniziare Numero 1, iniziamo da un settore che mi aspetto andrà bene nei prossimi anni Che è quello farmaceutico Ci sono singole aziende ovviamente in cui parallelamente al discorso di ETF sto pensando di espormi Però ora parliamo di ETF Il primo ETF che ho trovato quindi mi consente di investire su aziende farmaceutiche europee O comunque che operano in Europa Le aziende principali di questo indice sono Roche, Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Bayer e così via Attenzione a non farci confondere Se infatti andiamo a leggere come è distribuito geograficamente questo ETF Ci sembra che molte aziende siano svizzere E uno quindi potrebbe pensare che è un ETF molto esposto al franco svizzero In realtà non è così perché ben poco del fatturato di queste aziende svizzere viene dalla Svizzera Anzi paradossalmente pur essendo un ETF europeo è molto molto più esposto al dollaro Perché quindi non direttamente un ETF sugli Stati Uniti ad esempio Quindi sul farmaceutico statunitense In primo luogo per diversificare E come secondo aspetto perché ritengo che in questo momento Gli Stati Uniti come prezzi dei farmaci abbiano un problema Che potrebbe perlomeno andare in direzione opposta Quindi compensare un po' le performance che mi aspetto dal settore farmaceutico Per il fatto che dovranno un pochino calare i prezzi L'ETF in questione è STWX su borsa italiana Come tutti gli altri ETF di questa lista tra l'altro È grande 430 milioni a replica fisica Ad accumulazione quindi no dividendi Interessante visto che spesso le farmaceutiche andano a dividendi molto grandi E verrebbero tassati in modo molto grande Costa solo lo 0,23% annuo Dai massimi di quest'anno poi è sceso del 7% Io personalmente vorrei vederlo scendere ancora un pochino però Numero 2 Restiamo nell'ambito sanitario ma questa volta ci spostiamo nella ricerca C'è un trend che ormai va avanti veramente da un bel po' di tempo Che riguarda lo sviluppo dei farmaci Una volta le case farmaceutiche come prima cosa provavano a produrre internamente E a ricercare internamente nuovi farmaci poi da commercializzare La famosa ricerca e sviluppo per intenderci Oggi invece sta diventando molto più comune lasciar fare questo lavoro Che spesso è molto costoso, molto rischioso ad altre aziende piccole Per poi acquistarle quando queste appunto riescono a produrre e a trovare prodotti promettenti E di fatto è come appaltare la ricerca e sviluppo all'esterno Queste aziende nel campo delle biotecnologie che ricercano nuovi farmaci Però sono anche molto rischiose Perché se non riescono a sviluppare magari uno o più farmaci Continuano a provarci per anni perdendo soldi Magari diluendo il capitale tantissimo Perdendo il 90% Insomma è un settore rischioso, va detto Siccome però il trend, lo ripeto, mi sembra positivo È interessante secondo me investire in modo molto diversificato in queste aziende In questo caso però l'indice è su aziende americane Perché a mio avviso sono abbastanza più avanti di quello europeo Perlomeno c'è più movimento per quanto riguarda la ricerca da quel punto di vista La cosa che mi piace di questo indice è che le prime 5 aziende non possono superare l'8% singolarmente Che a mio avviso è un punto più positivo che negativo Perché ripeto, è un settore dove diversificare fa bene L'ETF si chiama SBO o SBIO come vi pare Ha replica sintetica che è utile in questo caso se si vuole diversificare in moltissime aziende E il costo è lo 0,4% Terzo ETF di oggi e dobbiamo andare in Cina Il problema degli ETF cinesi, chi ci investe tra voi se ne sarà sicuramente accorto È la loro grandissima concentrazione e scarsa diversificazione Gli ETF sono utili per diversificare e se abbiamo il 30% dell'ETF investito in due titoli Per quanto mi piacciono ad esempio Tencent e Alibaba Beh in questo caso dov'è l'utilità di investire in ETF? Ho trovato però un ETF che ci consente di investire nella terra del dragone Senza sbilanciarsi eccessivamente in due aziende Le prime infatti sono Alibaba, Tencent ma con una quota molto minore Matewan, JD, China Construction Bank, Ping An, ECBC, Xiaomi, NetEase Quindi un po' più diversificato anche dal punto di vista dei settori Non è puramente tecnologico ma abbiamo un po' di assicurazione, un po' di banca C'è un po' di tutto Inoltre è un ETF a distribuzione, nemmeno troppo male considerato che i dividendi cinesi Sono anche meno tassati dei dividendi americani 10% contro 15% se si sceglie di optare per la licorta ridotta L'ETF tra l'altro investe in titoli quotati direttamente ad Hong Kong Quindi in caso di delisting come tanti paventano Beh non ci sono problemi da quel punto di vista È un ETF caro, questo lo dico molto chiaramente perché rispetto alla media è molto più caro anzi Però non ho trovato nessun ETF simili, quindi anzi se lo trovate voi fatemelo sapere qui sotto nei commenti Tenete conto però che quando si tratta di ETF cinesi io voglio vedere un ETF che è sul mercato da tanto Questo è sul mercato dal 2004, quindi è abbastanza improbabile ormai che venga chiuso perché è poco redditizio Cosa del genere Dai massimi è sceso del 13% e spero che nel 2021 scelda ancora un po' così da acquistarne altri Numero 4 di oggi, oro A differenza di espormi direttamente sull'oro sto pensando di entrare all'interno di un ETF che investe in aziende che minano, che estraggono oro L'oro in questo periodo dove i tassi stanno salendo sta soffrendo parecchio perché l'oro non produce nessun tipo di rendita o flusso di cassa Mentre un'obbligazione che prima rendeva zero e ora inizia a rendere quasi il 2% diventa più interessante di un metallo che sta lì e non produce nulla Ma almeno per ora io sono rialzista sull'oro, quindi ho intenzione di posizionarmi su questo ETF I minatori è bene che sia chiaro, offrono una sorta di leva sul sottostante perché di fatto sono un'azienda che sfrutta la leva operativa Quindi hanno dei costi fissi e la differenza tra il fatturato e i costi fissi è il ricavo E nel momento in cui il prezzo dell'oro scende, queste aziende scendono molto più del prezzo dell'oro Nel momento in cui il prezzo dell'oro sale, queste aziende invece crescono decisamente di più Questo ETF quindi nel mio caso è una posizione puramente speculativa Non si può, come sapete, secondo me investire in oro, si può ribilanciare tutto quello che volete Però di fatto è speculazione, sul lungo termine, che comunque va bene Però ho intenzione appunto di seguire questa posizione molto da vicino E lo ripeto sempre, nel caso di posizioni speculative fate attenzione a quello che comprate E soprattutto se siete in grado e se avete le competenze di farlo L'ETF è GDX, è a replica fisica, non distribuisce dividendi e costa lo 0,53% annuo Esiste anche un altro ETF sui minatori d'oro che è GDXJ Che appunto comprende minatori d'oro più di piccole dimensioni E in teoria, almeno sulla carta, dovrebbe offrire una leva maggiore Perché sono aziende appunto più piccole, più rischiose, con costi spesso più alti Ma di fatto, se andiamo a vedere i rendimenti e le volatilità di entrambi questi ETF Ci rendiamo conto che queste promesse di rendimenti maggiori non sono state soddisfatte Quindi personalmente, se qualcuno me lo sta per chiedere nei commenti, preferisco tra i due GDX Ultimo ETF di oggi, quello più particolare, infatti è su un settore molto preciso E anche relativamente piccolo Sto parlando del settore del cloud In particolare, questo ETF è ancora più settoriale Non investe solamente in aziende che si occupano di cloud Ma in aziende emergenti, quindi in aziende anche abbastanza piccole di questo settore Non stiamo certamente quindi parlando di Amazon o Microsoft Alcune aziende di questo ETF sono Snowflakes, Shopify, CrowdStrike, Atlassian, Okta E questo ETF rispetto alla prepandemia, tra l'altro, è salito del 40% Quindi è evidente che queste aziende abbiano beneficiato della situazione attuale È un ETF però che al contempo, dai massimi dove era arrivato quest'anno, è sceso del 22% Secondo me complici le valutazioni folli a cui erano arrivate alcune aziende all'interno di questo ETF E secondo me può scendere ancora, tra l'altro L'ideale sarebbe, per chi ne ha le competenze, la voglia e il tempo, di ricercare aziende singole all'interno di questo ETF Che è molto interessante, però se uno non vuole spingersi e anche rischiare il capitale su singole aziende Allora questo ETF può fare al caso suo Ho voluto lasciare questo ETF per ultimo perché lo ribadisco, è anche un po' quello più rischioso Quello un po' più particolare, quindi fate molta attenzione L'ETF è WCLD, è a replica fisica e costa lo 0,4% annuo Ragazzi, io vi ricordo che tutti questi ETF sono quotati prima di tutto su Borsa Italiana Quindi dal punto di vista del fisco non c'è problema, sono armonizzati, non ci sono problemi di alcun tipo E inoltre sono quotati su DeGiro, che è il broker che io consiglio sempre per quanto riguarda gli ETF È un broker davvero semplice da usare, non richiede depositi minimi se non un centesimo di verifica identità E secondo me è soprattutto adatto a un principiante che magari cerca un'operatività molto piccola, molto semplice Magari addirittura un'operatività solo in ETF Vi lascio come sempre il link qua sotto per iscrivervi e anche il link alla recensione che ho fatto tempo fa sul canale Così se qualcuno volesse poi approfondire trova tutte le fonti Per questo video ragazzi è tutto, fatemi sapere invece se voi avete degli ETF interessanti da guardare Nel caso scrivete tutto qua sotto, io gli do un'occhiata Io quindi oggi vi saluto e alla prossima